ciao a tutti appassionati anime manga sono Alex come sempre in video seguimi qui su youtube su instagram su twitch e anche il mio ipoteca per stare sempre aggiornati tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione vi ricordo che mi troverete dal comicon 7rd sabato e domenica qui a bergamo quindi se volete incontrarmi mi troverete in giro per gli stand al massimo mi iscrivete magari ci organizziamo per salutarmi principalmente scommovente sarò nel padiglione a quello dedicato ai fumetti e niente mi farebbe solo piacere conoscere le persone non state timidi che non ho problemi a fare foto o fare due parole comunque detto questo inizia di iniziare dal video acquisti della terza settimana del mese di ma giugno 2024 partiamo con gpop shadows house volume 15 prezzo 6 euro e 50 sapete di shadows house mi è piaciuto non proprio fin dall'inizio però dal terzo volume in avanti sì perché ha buttato delle verità davvero importanti ci ha fatto capire capire o meglio ha cambiato totalmente la visione che avevamo dei primi due volumi ecco questa villa che ha qualcosa di oscuro un segreto oscuro che ovviamente ormai si sa già ormai dopo 15 volumi si sa i vari segreti oscuri però non è finita ecco c'è ancora molto altro da scoprire e siamo solo all'inizio cioè mi sembra che siamo ancora parecchio lungo ecco non lo vedo così prossimo alla sua conclusione però potrei sbagliare poi magari potrebbe accelerare di colpo però non mi sembra davvero così prossimo alla sua conclusione però per ora mi piace lo consiglio sempre se avete preso le prime tirature come me fino adesso in tutti i volumi in tutti c'è una questa specie di cartolina segnalibro in omaggio in tutte le prime tirature tutte diverse ovviamente è un'idea carina e fatemi sapere qui sotto nei commenti se lo state seguendo se no male poi continuiamo con jpok l'ultimo di quelli che seguo che ho preso è nuvole a nord ovest volume 7 prezzo 7 euro e 50 è interessante siamo in islanda o meglio siamo pari dall'islanda siamo tornati in giappone per scoprire per andare sulle tracce di suo fratello il nostro protagonista riparte sulle tracce di suo fratello che molti alcuni dicono che ha ucciso qualcuno però lui non ci crede non è convinto entrambi i fratelli hanno dei poteri particolari poteri esper in particolare il nostro protagonista può parlare con le macchine con oggetti tecnologici ovviamente le macchine non è che rispondono però in qualche modo lui ne capisce i sentimenti ecco quindi riesce a capire magari se uno è guasto cosa gli fa male così per dire tra virgolette e cerca di capire un po' come risolvere i problemi è molto semplice molto leggero per certi versi questo manga ci fa conoscere anche un po' l'islanda un po' come una guida turistica se volete andare in islanda come io voglio andare in islanda ma no perché ho letto nuvole nord ovest già è un sogno che soprattutto vedere l'aurolo boreale anche il manga devo dire è interessante non è uno dei capolavori non è unico ma anche dico bisogna leggere tutti i costi però è carino non escono troppi volumi in un anno quindi si fa in tempo a recuperare certo se invece volete serie da leggere velocemente o serie già concluse ecco forse non lo fa per voi però è molto tranquillo ci sono comunque dei capitoli un po' turbolenti però nel complesso si fa leggere più che volentieri poi passiamo a planet manga con una novità bug call scusate bug call prezzo 7 euro vrm1 ovviamente è un fantasy anno 294 dell'era arborea luca vive sul campo di battaglia ma odia la guerra il suo sogno di diventare un musicista un giorno si manifesta in lui il potere del ramiensis quel giorno il sogno del stino inizierà a cambiare cos'è questo potere? se è un musicista vedo questo che è la tromba penso che sia un bardo potere da bardo forse vediamo c'è un po' questo disegno interessante devo dire non male il tratto ci porterò una prima impressione assolutamente e vi dirò se vale la pena o meno leggerlo va abbastanza cicciotto come primo volume vediamo poi continuiamo con la planet manga con una ultimate deluxe edition DNA Angel prezzo 15 euro ovviamente volume 1 è una edizione di cui non ho più palli d'idea c'è come prima pagina questa specie di poster non so se lo staccate voi quando vedete queste cose ci porterò forse una prima impressione vediamo non so proprio nulla di cosa parla vediamo vi dirò vi dirò perché sono un parecchio curioso e voglio vedere dove cosa dice si merita e ecco niente non so proprio cosa aspettarmi vediamo vediamo poi invece un ultimate deluxe edition ikar 1 go volume 8 prezzo 15 euro sempre edito a planet manga questo è uno spocon basato sul gioco del go del go un po' un po' una dama un po' un po' di scacchi ecco comunque un gioco strategico che da noi poco poco conosciuto perché è tipico cinese che all'inizio poi è stato portato anche in Giappone un po' come Yu Yu il nostro protagonista è adentrissi uno spirito del gioco del go cioè uno spirito del Giappone antico che era un campione del gioco del go e non è che impossessato però condivide il corpo del protagonista e ecco quindi andiamo quindi vediamo non so se vi può interessare anche perché non penso che a tutti possa piacere questo tipo di gioco più che altro forse magari può interessare conoscere un po' la cultura giapponese stessi autori di Death Note quindi magari può essere qualcosa in più per convincervi a prenderlo avrà 20 volumi quindi non sono pochi per 15 euro boh staremo a vedere non so ditemi voi se lo seguite o già la conoscete poi è la Bibbia Berserk Deluxe Edition volume 7 e il tuo pet mangia a prezzo 50 euro quindi questa è la Bibbia sapete quanto amo Berserk ma chi non ama Berserk sinceramente male se non lo amate dovete leggerlo almeno una volta nella vita perché Berserk è un capolavoro uno dei migliori manga di sempre non lo dico solo io merita merita tantissimo tra l'altro fumetteria mi hanno omaggiato di questo poster quindi non so se andate in fumetteria è un poster molto molto carino un cartonato potrebbe essere un'idea provata a passare in fumetteria passiamo ora alla Star Comics finalmente l'ultimo volumetto di IQ l'ultimo cofanetto di IQ col volume dal 41 al 45 edito la Star Comics prezzo 26 euro poi vi porterò finalmente la recensione di IQ quando avrò letto questi volumi avremmo tante cose in ballo non ho aspettato di qualcosa nell'immediato assolutamente perché ho davvero tante forse troppe cose da fare anche perché tre giorni sono nel Comic Con quindi il tempo è quello che è quindi col tempo usciranno più video anche perché comunque ormai grosse serie di recuperi non ne sto facendo perché ormai ho letto quasi tutto quindi grossi recuperi non ce ne sono da fare e quindi vivo sostanzialmente delle novità o dei manga che si concluderanno quindi ovviamente dovevo ancora fare quello di Ariadne sì lo so uscirà anche quello non lo sono dimenticato poi ancora con la Star Comics Kaiju numero 8 Variant volume 1 prezzo 1,99€ quindi può essere interessante perché ancora non ho letto l'opera non ho letto il manga si è concluso l'anime sabato molto molto bello molto interessante spero che avete visto almeno l'anime perché secondo me Meita come ho già detto prima volta che è arrivato in Italia che ci volevate puntare e non me ne sono sbagliato poi penultimo volume per Mashal il 17 prezzo 5 ore 20 edito della Star Comics ci sta avvicinando alla conclusione quindi non dirò non dirò nulla per non mischiare di fare spoiler però ecco ovviamente siamo allo scontro finale non vedo l'ora di leggere questo e poi il 18 poi ecco questo è uno dei migliori shoujo migliore shoujo attualmente in corso che preferisco Yona la principessa scarlata volume 42 prezzo 5 ore 20 ci sta per concludere in Giappone mancano due capitoli e poi si concluderà in Giappone quindi probabilmente saranno 45 forse 46 i volumi totali quindi niente ci manca davvero poco alla conclusione e niente anche questo viaggio finirà ma è giusto che sia così ecco si hai un po' qua dispiacere che il protagonista non li vedi più però è anche giusto che a un certo punto un manga si concluda ma soprattutto che si concluda bene non troppo tirato non troppo banale come finale spero davvero che sia un buon finale con un bel lieto fine davvero e spero davvero che il finale non mi deluda davvero spero davvero tanto poi volume 2 per Shibatarian è di Thor Star Comics prezzo 6,50 euro il primo volume secondo me niente di speciale mi aspettavo meglio leggo il secondo volume per l'ultimissima possibilità perché se neanche da questo mi convince davvero fino in fondo ecco lo lascerò stare vediamo comunque ci ho fatto un video prima impressione a riguardo mi raccomando andate a guardarlo poi sempre a Star Comics la nuova edizione di Inuyasha il 17 la wide edition prezzo 9,95 euro sapete che secondo me è il capolavoro di Numiko Takashi avevo letto Iskango quando era sui tempi ho visto l'anime quindi so già come va a finire infatti neanche lo sto leggendo ho letto il primo volume per farsi il video a riguardo però lo aspetterò quando sarà concluso ci saranno tutti i volumi e poi lo leggerò tutto da zero vi forterò proprio un video recensione dedicato potrei già farlo però preferisco che tra due anni sarà due o tre anni sarà finito è ancora lungo però se nel caso siete davvero curiosi scrivetevi che mi rispondo o se mi incontrate in fiera comunque niente manga concluso Sanpei ragazzo pescatore volume 12 la tribute edition prezzo 12 euro è itero a Star Comics non è una nuova edizione è un sequel spin off anzi forse proprio più sequel del nostro protagonista del nostro personaggio per chi è nato negli anni 80 ha visto l'anime sicuramente avrà un ricordo un po' nostalgico dell'opera quindi magari forse anche intenzionato a prenderlo poi finalmente solo leveling 17 prezzo 9 euro 90 è già Star Comics questo è un Mawa è il Mawa migliore secondo me è il mio preferito di Mawa o Webtoon chiamatelo come volete colori pazzeschi scontri pazzeschi protagonista fatto benissimo scontri ma è comunque banali anche potere per quanto possa essere OP non è così scontato che vince a occhi chiusi e poi guardate che copertine pazzesche tanta tanta roba non vedo non vedo l'ora di leggere come tutti i volumi perché sono qualcosa di davvero stupendo ultimo volume della settimana Aula da Deriva volume 4 nuova edizione edito da Star Comics prezzo 17 euro la vecchia edizione era della Ikari Icazu Mets manga horror anche di questo fatto per impressione ci porterò quasi sicuramente una recensione quando sarà conclusa perché non manca molto un paio di mesi però merita se vi piacciono gli horror fidatevi che merita io vi ringrazio se vi è piaciuto mi raccomando iscrivete al canale lasciate like noi ci vediamo ai prossimi video e mi raccomando se vi volete a più fiere scrivete a a chi organizza le fiere o agli espositori che mi volete come ospite perché più glielo chiedete più facile che magari mi contattano detto questo noi ci vediamo al prossimo video vi ringrazio